L'appalto della mensa e ristorazione dei presidi ospedalieri della provincia di Pescara da sempre è un appalto problematico, per cui le organizzazioni sindacali unitariamente Filcan CGL, Fisaskat Cisle e Wiltux Will hanno sempre promosso tavoli di confronto per andare a risolvere quelle che sono ormai problematiche storiche legate comunque al personale ridotto e risicato. Con l'emergenza Covid-19, con l'apertura del nuovo palazzo, nuovo ma vecchio, perché comunque si trova nella struttura vecchia dell'ospedale civile Covid-19, la situazione è precipitata, è precipitata in quanto la palazzina, per quanto ci riferiscono gli stessi addetti che prestano servizio, non è adatta comunque a garantire gli standard di sicurezza legati alla criticità dell'epidemia. Non ci sono corridoi dedicati, esiste un solo ascensore che poi molto spesso si blocca delle problematiche, loro sono costretti ad utilizzare dei montacarichi di cui non abbiamo contezza della corretta sanificazione, ci sono diversi problemi. Per di più non è stato implementato il servizio, quindi ci troviamo a gestire un servizio in più con dei protocolli di sicurezza da dover seguire, con delle attenzioni particolari attinenti comunque alla sanificazione, l'igienizzazione e le pulizie dei locali e del materiale in uso.